Vabbè, il paesino l'abbiamo visto, molto bello, tutto molto caratteristico. Andiamo a vedere se è pronta sta macchina adesso, dai. Ciao Guido! Ma chi è? È Giulietta. Chi è? È una ragazza del concorso, mi ha mandato un bacio, hai visto? Secondo te le piaccio? Non lo so, tutto può succedere. A parte che ti vesti di merda, sei un bel ragazzito. Hai capito? Grazie. 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 Grazie.